Una vittoria straordinaria, noi ci abbiamo creduto fin dall'inizio, da quando ci siamo riformati dopo un anno di stop, ci abbiamo creduto tutti insieme, abbiamo portato avanti questo ideale e ci siamo riusciti. Senza storia, il Lerici vince il 92esimo palio del Golfo. Dieci interminabili secondi devono trascorrere prima che il Fezzano superi con la propria prua la bandierina dell'arrivo. E non ha potuto fare nulla nemmeno il Fossamastra che rimane indietro terminando la gara in terza posizione. Leonardo Richiusa, Giacomo Mori, Giuseppe Liberatore e Diego D'Imporzano dimostrano la propria superiorità rendendo inefficace qualsiasi tentativo di recupero da parte degli avversari. Perfetta anche la prova del timoniere Manuel Zanatta che affronta questi 2000 metri con una tranquillità e scaltrezza rara per un bambino di appena 10 anni. E il terzo trionfo dell'Erici è anche il secondo da allenatore di Paolo Lavalle, ancora una volta protagonista della Morin. Abbiamo fatto illudere tante persone, sapevamo di portarci alla casa, dovevamo solo mantenerci bene di salute e concentrati e senza montarsi mai la testa. Oggi ne avevate veramente di più degli altri. Avevamo più di tutti, eravamo carichi, eravamo concentrati delle bombe, credo che meglio di così non si può fare. A crederci davvero è stato senz'altro il Marola che ha portato a termine una delle gare migliori della stagione. Ma coloro che più stupiscono in positivo sono Muggiano e Portovenere che superano le più accreditate barche di Canaletto e San Terenzo. A seguire il Cadimare che precede Venere Azzurra, CRDD e Tellaro. L'applauso consolatorio più grande va senz'altro all'Armo delle Grazie che ha sbagliato il giro di boa dei 1500 metri.